Ben trovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Il Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Napoli questa mattina ha restituito un importante dipinto del XVIII secolo raffigurante la Sacra Famiglia con Santa Rosa attribuita alla cerchia del Solimena, trafugata dal Museo dell'Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni nel 2003. Applausi Durante alcuni lavori di ristrutturazione del corridoio della biblioteca del monastero, come spiegato ai nostri microfoni dal Capitano Massimiliano Croce, comandante del Nucleo tutela del patrimonio di Napoli. La restituzione di quest'oggi in questa bellissima cornice dell'Abbazia Benedettina Santissima Trinità di Cava dei Tirreni è stata resa possibile grazie ad un'azione investigativa che ha portato a rintracciare quest'opera nel nord Italia. Quindi i passaggi sono stati quelli di un furto all'interno della biblioteca dell'Abbazia, dopodiché c'è stato un canale di ricettazione che evidentemente è passato dal centro Italia e poi nel nord Italia e quindi è stata intercettata prima che venisse venduta definitivamente e magari potesse prendere la strada dell'estero. Questo grazie al monitoraggio costante che si fa, noi possiamo disporre di una banca dati, quindi il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale gestisce una banca dati dove all'interno vi sono 1 milione e 300 mila opere da ricercare, 7 milioni di eventi criminosi e quindi si lavora su questa banca dati e ovviamente anche con le altre componenti dell'arma territoriale ma anche con la collaborazione delle soprintendenze presenti sul territorio. Non sappiamo se si tratta effettivamente di un furto su commissione, sta di fatto che è avvenuto in un momento molto critico nel senso in cui si stavano facendo dei lavori all'interno dell'Abbazia, quindi lavori che interessavano la biblioteca e in quel francente durante lo spostamento di alcuni beni ecco che si è verificato il furto. Alla cerimonia di riconsegna dell'opera al Padre Abate Don Michele Petruzzelli, oltre ai vertici territoriali dell'arma dei Carabinieri, erano presenti anche numerosi esponenti dell'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, con in testa il sindaco Vincenzo Servalli. Decisamente un giorno importante, io sono molto contento di questo recupero, esprimo la mia gratitudine al nucleo dei Carabinieri della tutela patrimonio culturale di Napoli che si è impegnato in questa ricerca e che oggi restituiscono alla nostra Abbazia questo quadro di valore, un quadro del 1700, che andrà ricollocato dove l'hanno sottratto più di 20 anni fa. Sono il conservatore di fronte al Ministero della Cultura, pertanto noi monaci custodiamo queste opere d'arti, custodiamo questi tesori e pertanto penso che oggi si debba rallegrare anche tutta la città di Cava, in quanto la Badia fa parte della storia di Cava e quindi ecco io nel giorno di San Costabile che ricorre oggi sono proprio contento e auguro a tutti quanti un buon cammino cuaresimale in compagnia di San Benedetto, Sant'Alferio e San Costabile. Sì, io ricordo perfettamente il grande dispiacere, il grande dolore di tutta la comunità quando in quegli anni in più di una circostanza ci furono dei furti qui in Abbazia e il lavoro dei Carabinieri è stato veramente del nucleo specializzato dei Carabinieri per il ritrovamento di queste opere, per la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio, è veramente straordinario e stamattina diciamo c'è questa restituzione all'Abbazia Benedettina, alla nostra città di questo quadro importante e insomma siamo qui per esprimere la felicità della nostra comunità, per salutare il nostro padre Abbate che è il custode di questa straordinaria storia, di questa straordinaria vicenda della nostra Abbazia Benedettina e ovviamente i Carabinieri per il loro lavoro così importante e così prezioso. Incendio nella giornata di ieri all'interno dell'ex tipografia di Mauro, in corso accertamenti per scoprirne le cause. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Cava dei Tirreni, in via 25 luglio, dove i commercianti e i residenti si sono accorti a causa di una nuvola di fumo e d'oreacre dell'incendio divampato nell'ex tipografia di Mauro. Nello specifico, a prendere fuoco, sono stati i magazzini dell'ex fabbrica, attualmente di proprietà della catena di supermercati MD dove è prevista al posto dell'ex tipografia la realizzazione di un vasto progetto commerciale. Secondo una prima ricostruzione, per causa ancora in corso di accertamento, un rugo è divampato all'interno della vecchia fabbrica poco dopo le 18. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Cava dei Tirreni e i vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Le fiamme si sono propagate, ma l'intervento di spegnimento dei vigili del fuoco è andato a buon fine e evitato conseguenze più gravi. Al momento non si conosce la causa dell'incendio perché non sono stati trovati elementi utili a indirizzare le indagini. Perciò non può essere esclusa alcuna pista, anche se all'interno del capannone dell'ex fabbrica si trovano cumuli di materiali da dismettere che potrebbero aver preso fuoco. I residenti da tempo segnalano la presenza, specialmente notturna, di senza tetto che utilizzano i locali dell'ex tipografia come dimora. Blitz dei carabinieri nell'agro Nocerino Sarnise smantellato, un clan camorristico ed arrestate 36 persone. I carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore, insieme ai colleghi del gruppo di Torre Annunziate e delle compagnie carabinieri di Ferrara e Potenza, hanno eseguito nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio, un'ordinanza di custodia cotelare messa dal GIP di Salerno, nei confronti di 36 componenti di un'associazione delinquere di tipo mafioso operante nell'agro Nocerino Sarnise e nella provincia di Napoli. I soggetti sotto indagine sono accusati di aver costituito un clan di Camorra autodefinito famiglia per via dei vincoli parentali che legano i principali indagati, e al cui vertice vi era Dario Federico di Bosco Reale, il quale era già stato condannato nel 2007 come capo e promotore di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione criminale, in virtù della forza intimidatrice fornita anche dalla disponibilità delle armi da fuoco, principalmente approvvigionate e fornite da un esponente del clan Nardiello di Torre Annunziata, gestiva le piazze di spaccio, di Scafati e zone limitrofe, dedicandosi anche ad attività estorsive sul territorio e nei confini di esso. Secondo la ricostruzione accusatoria, il gruppo, già oggetto di precedenti indagini da parte di altro ufficio giudiziario, in quanto operante nel distretto di Napoli e nei territori di Pompei e di Castellammare di Stabbia, si era trasferito nel territorio di Scafati a seguito del vuoto di potere, correlato all'arresto eseguito nel dicembre del 2021, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, di diversi presunti esponenti di un gruppo mafioso collegato a Franchino Matrone, acquisendo una supremazia sugli altri gruppi criminali operanti sul medesimo territorio, tanto da essere chiamati ad intervenire per regolare le competenze territoriali camorristiche e respingere con l'uso di armi eventuali invasioni attuati da altri gruppi che avessero sconfinato dai territori di insediamento. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziare della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito nei confronti dei 36 soggetti indagati un'ordinanza di sequestro di beni immobili, attività economiche e rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in circa 3 milioni di euro, somma a cui dovrà aggiungersi il saldo attivo rinvenuto in fase esecutiva sui conti correnti sequestrati. Ieri c'è stata la manifestazione dei sindaci Campani e Pugliesi, guidati dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il quale è sempre deciso a portare avanti la propria battaglia per i fondi sviluppo e coesione al Mezzogiorno d'Italia. Vediamo. Quindi ho chiamato il presidente del Consiglio, andiamolo su. Noi non possiamo accettare queste provocazioni di questo faradunno. Credo che un anno e mezzo deve ancora fare gli struttori. Una data! Imprevedibile Vincenzo De Luca. Ieri mattina c'è stata la programmata manifestazione a Piazza Santi Apostoli in Roma, organizzata dalla regione Campania con l'Anci regionale. E pur di difendere le ragioni sue e delle centinaia di sindaci, soprattutto pugliesi e campani, che lo sostengono nella sua battaglia contro l'attuale disegno di autonomia differenziata e per lo sblocco di circa 7 miliardi di fondi di sviluppo e coesione per il Sud, il governatore ha provato a spingersi verso i ministeri interessati e verso Palazzo Chigi per essere ricevuto dai membri del governo. Ma le forze dell'ordine lo hanno bloccato e gli hanno ribadito che il corteo non era autorizzato fino lì. Ne è nata un'accesa discussione, qualche spintone, ma fortunatamente tutto ciò non è degenerato. Resta il fatto che la sua manifestazione era stata indetta per ottenere risposte e che queste risposte dovrebbero comunque arrivare. Nel frattempo, Giorgia Meloni, il premier in carica, era in una conferenza stampa a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, per parlare del progetto del ponte che dovrebbe congiungere Messina a Villa San Giovanni sullo stretto, un progetto nel quale il governo crede in maniera particolare. Meloni ha replicato che nel disegno di legge sull'autonomia differenziata si tratta di destinare risorse alle regioni più virtuose e ha velatamente attaccato De Luca, pur senza nominarlo. Tutti sono collaborativi, salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Forse, se invece di fare manifestazioni ci si mettesse a lavorare, si potrebbe ottenere qualche risultato in più. Sono parole del presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi è questione di come le regioni spendono le risorse. E a Roma De Luca, che ha ascoltato l'intervento del premier, è stato sentito dire ad alcune persone nei suoi pressi che dovrebbe essere piuttosto Meloni ad adoperarsi per far sì che il divario tra nord e sud sia recuperato e l'avrebbe apostrofata con un termine poco osvordiano. Il comportamento del governatore ha suscitato una eco-mediatica tale che sui canali ufficiali di Fratelli d'Italia, che è il partito del premier, è stata pubblicata una nota. Le parole offensive usate da De Luca contro il presidente Meloni sono inaccettabili, così come indegno è il comportamento assunto dal governatore della Campania nei riguardi delle forze dell'ordine. Attendiamo una condanna unanime e una netta presa di distanza del suo partito. Distanti, sì, anche per centinaia di chilometri, ma sempre in polemica l'uno verso l'altra. Essendo stato respinto all'ingresso di Palazzo Chigi, De Luca si è quindi recato presso la prefettura di Roma, accompagnato da una delegazione dei primi cittadini e dopo essere uscito si è intrattenuto con i giornalisti, definendo l'attuale governo non degno di uno Stato democratico, sicuramente per non avere avuto ancora le risposte che chiedeva all'esecutivo. Peraltro, il fatto che la Campania avrebbe speso il 24% delle risorse sarebbe stato riferito anche in diretta a TV nazionale da un deputato di Fratelli d'Italia, che poi De Luca ha annunciato di voler querelare, ritenendo falsa tale informazione. Comunque, il governatore Campano non cessa la propria battaglia contro il ministro Fitto, nei confronti del governo centrale, per lo sblocco dei fondi in favore del Sud, che da un anno e mezzo sarebbero al palo, e ha programmato per stamattina a Napoli una nuova manifestazione, successiva a quella di ieri a Roma, che si è tenuta presso il Teatro San Nazaro, quindi con il mondo della cultura e dello spettacolo del Sud chiamato ad aderire. A rischio ci sono 10.000 posti di lavoro, è stato l'allarme lanciato dai sindacati. La cultura non può essere terreno di scontro politico, è la voce di artisti, associazioni, sindacati e maestranze. Ed è insolitamente cresciuto nell'ultimo periodo il numero di episodi di avvelenamento di animali sul territorio di Cava dei Tirreni. È allarme a Cava dei Tirreni per gli ultimi casi di avvelenamenti di cani e gatti sul territorio. La vicenda sta addestando anche una certa preoccupazione. Segnalati almeno quattro casi di avvelenamenti a via Corradino a Shreba, a Sant'Arcangelo e non solo. E la preoccupazione non è solo perché vengono colpiti gli animali randagi, ma soprattutto perché ultimamente tra i malcapitati sono stati segnalati anche animali domestici che hanno un padrone. Non è bastata la questione del gattino scuoiato vivo e poi inutilmente soccorso dai veterinari di Cava, ma forse bisogna davvero cambiare il comportamento in generale nei riguardi degli animali. Anna Casaburi, in qualità di attivista animalista, ha parlato degli ultimi casi di avvelenamenti e cerca di darsi una spiegazione a questo assurdo fenomeno. Stiamo assistendo a numerose segnalazioni circa gli avvelenamenti che stanno propinando agli animali. Questo accade sia per i cani padronali che ai gatti randaggi. Infatti, come associazione EMPA, rispondiamo spesso a diverse segnalazioni di avvelenamento. Non ultimo, il fattaccio è accaduto proprio in una colonia che seguo io. Purtroppo c'è gente che è intollerante alla presenza degli animali e quindi di conseguenza, io dico, sfoga il suo tormento interiore. Non vorrei essere molto ironica, però sfoga il suo tormento interiore su queste anime che non hanno voce. Io sono rammaricata perché i problemi si possono risolvere anche in maniera diversa. Credo che sarebbe opportuno intanto fare i dovuti controlli per vedere effettivamente chi sta spargendo esche avvelenate in diverse zone di cava. Sono morti già tre cani in questi due o tre mesi e diversi gatti. È accaduto a Sant'Arcangelo, è accaduto a Via Corradino Schreiber, addirittura nello sgambatoio per i cani. Quindi è stato volutamente fatto questo vile atto proprio a discapito dei cani che vanno lì a sgambare. Allora, io so che molte persone non vogliono i cani che camminano per la piazza. potrei essere anche d'accordo perché non abbiamo contenitori per le deiezioni canine, però so per certo che l'amministrazione comunale con la quale stiamo collaborando anche come associazione sta cercando le risorse per poter fare questa cosa. Purtroppo non è che i soldi scendono da cielo e quindi chiaramente a breve ci saranno i pali per delimitare la presenza di colonie feline. Poi magari metteremo un po' di soldi da parte perché faremo insieme con l'amministrazione le raccolte proprio per finanziare queste cose. Non ci sono i contenitori, però preghiamo le persone che hanno i cani e che li portano in giro per la piazza. Io sono un animalista, quindi amo gli animali, però nemmeno a me piace vedere le deiezioni per la piazza, ma ovunque le vedo è come se si facesse apposta ed è anche brutto nei confronti di chi fa il lavoro dell'operatore ecologico perché molto sinceramente perché deve toccare gli escrementi del cane? Scusatemi la parola, però penso che sia una parola ad uso per questa cosa. L'altra mattina ero proprio in comune nell'ufficio tutela animali quindi la segnalazione era stata inviata all'ufficio tutela animali che prontamente l'ha trasmessa al comando di polizia municipale. Ovviamente si devono fare dovuti rilievi, però sarebbe anche opportuno che se ci sono casi di avvelenamento il referto del veterinario dovrebbe essere presentato anche come prova scritta ovviamente negli uffici della polizia locale perché se non si denuncia non è che si può intervenire su una cosa detta per sentito dire. Io mi auguro che ne veniamo a capo anche perché abbiamo un regolamento comunale che all'articolo 11 vieta proprio questa cosa, tra l'altro è un reato spargere veleno perché integra la fattispecie dell'uccisione dell'animale quindi l'articolo 544 bis del codice penale dice che chi cagiona volutamente per crudeltà la morte di un animale rischia, non ci va che non ci va però quantomeno la sanzione se la becca perché purtroppo le pene per arrivare in carcere non sono così elevate per tradurre una persona presso il carcere di Forni. Però noi ci auguriamo insomma che un po' di sensibilizzazione in più verso questa intolleranza anche a ragione talvolta perché ripeto mi pare che se andiamo già verso la villa comunale ci sono i contenitori per le deiezioni canine però volutamente capita anche a me lo vedo quando vado dalla mia colonia anche a Santa Lucia c'è il contenitore per la deiezione canina e a terra c'è la deiezione stessa non presa e messa nella bustina. Le vendono, costano poco, costano 2 euro le bustine. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. Termocasa, idropittura per interni antimuffa con microbolle cave di vetro a base di vinil versatato in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate e microbolle cave di vetro. Antimuffa, anticondensa, termoisolante e fonoassorbente Colorificio Cavese, via 25 luglio 87, Cava dei Tirreni Zero stress per riparare la carrozzeria della tua auto Restyling Car in via Starza, Cava dei Tirreni e specialista in riparazioni, gestione sinistri con fornitura di auto sostitutiva Detailing completo Con Mailboxes viaggia leggero Spediamo i tuoi bagagli a destinazione e con soli 10 euro hai l'assicurazione Safe Value Ti aspettiamo a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 1921 e a San Giuseppe Vesuviano in via 20 Settembre 148 150 Previsioni per oggi Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni In montagna, bel tempo, con cieli sereni In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni In montagna, bel tempo, con cieli sereni Previsioni per domani Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Torniamo in studio ed apriamo la pagina dello sport con la Cavese. Domani pomeriggio torna il campionato di calcio di Serie D nel Girone G. e la Cavese sarà contro il Gladiator. Le due squadre cominceranno alle 14.30. Cavese e Gladiator sarà la partita che domani segnerà il debutto dell'allenatore Raffaele Di Napoli alla guida della squadra metelliana. I bianco-blu, che non vincono in casa dal 16 dicembre scorso, sono comunque la capolista e hanno rafforzato la leadership del Girone, vincendo spesso anche in trasferta, ma lotteranno per cercare di ridare ai propri tifosi una grande soddisfazione al Simonetta Lamberti e possibilmente esprimendo anche un buon gioco. Di fronte ci sarà un Gladiator che ultimamente si è dimostrato in forma, ma che annaspa ancora nei bassi fondi della graduatoria. 47 punti per gli Aquilotti, che hanno 7 punti di vantaggio su Cassino e Romana, che si trovano al secondo posto, mentre i Sammaritani sono comunque terzultimi a 18 punti. Cavese-Gladiator si preannuncerà anche come la sfida tra i due bomber, la sfida nella sfida, tra Antonio Messina per il Gladiator, autore di 10 gol, e Ciro Foggia per la Cavese, in grado di andare a segno 7 volte. È a loro che le rispettive squadre si affidano per essere incisive, anche se mentre il Gladiator sembra dipendere molto da Messina, la Cavese ha avuto anche ulteriori frecce al proprio arco. Foggia è il miglior marcatore dei biancoblui in casa, insieme a Di Piazza, con tre reti, ma con i suoi 7 gol realizzati lontano da casa per il Gladiator, Messina è anche il calciatore con più gol in trasferta nel girone G. La probabile formazione della Cavese per domani. Boffelli, Fraraccio e Tropea, Trost, Magri e De Rosa, Antonelli, Zenelai, Foggia, Di Piazza e Urso. Probabile risposta del Gladiator, allenato da Antonio Foglia-Manzillo, Marone, Finizio e Di Lorenzo, Visconti, Mansi e Yoio, Onesto, Danna, Panic, Messina e Navas. Cavese e Gladiator domani prenderà il via alle ore 14.30 e vi saranno presenti oltre 2.500 spettatori, in larga maggioranza cavesi, confortati dalle ottime condizioni atmosferiche che si prevedono. L'arbitro del confronto sarà il signor Daniele Aronne della sezione di Roma 1. I guardaline saranno i signori Cirillo di Roma e Spoletini di Rieti. Ed invece la Nocerina domani giocherà a Budoni, in provincia di Sassari. Il fischio d'inizio sarà anticipato alle ore 14.00. Riprendere da dove si era lasciato è l'obiettivo della Nocerina in vista della gara sul campo del Budoni. Prima della sosta i rossoneri avevano ottenuto 5 vittorie su 5 incontri, scalando la classifica fino alla quarta posizione. L'intento è di continuare la scalata, missione possibile, almeno sulla carta. Il fanalino di coda Budoni, infatti, non è avversario temibile, a patto che non sia sottovalutato l'impegno. Ne sono consapevoli i calciatori della Nocerina, il cui intento è di mantenere alta la concentrazione nel tentativo di mettere nel mirino Romana e Cassino. Al riguardo ultimata alla preparazione, la squadra è pronta per la gara di domani. Nappi conferma il collaudato 4-3-3 con Fantoni in porta, Mariano Mazzei, Craste e Pinna in difesa, in mediana Carotenuto, Cidarella e Vecchione, attacco formato da Gaetani, Liurni e Cardella. La squadra sarà sostenuta da circa 300 tifosi, inizio gara, anticipato alle ore 14. E questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per averci seguito e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.